no 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 tolghi hey lo are Disney transfer e se 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 mi pare di meraviglia ecco eccoci qua dopo questo come un'altra dam Ok, cominciamo Sì, sera 2, H di casa 5102 Sì, sì Non è fastidio Non è un inco, non sei un inco Ascoltate No, ha detto, questo è avuta No, non è Right Non è un inco Di mezzo Tale in ingo Non è vero No, non è vero Si è vero Non è vero Non è vero No, non è vero Hai vero No, non è vero No No eccoci qua dell'inizio restate 151 esatto ascoltiamo 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 oh mio dio ci vediamo ci vediamo prossima Alice Alice La scuola di Dino Steigen, l'arcivescovo di Canterbury, ha consentito a ricevere il figlio per otterrgli la colonna. La scuola di Dino Steigen, l'arcivescovo di Canterbury, ha consentito a ricevere il mondo, questo mondo, questo mondo, guardate, potete guardare, guardate, potete guardare, ok, potete guardare pure, ok, bello mondo, sentiamo, si, vedete, oppure, guardate, potete guardare. Come hai detto, a chi poteva, con l'arcivescovo di Canterbury, sembra l'arcivescovo di Canterbury, cantere per l'anima di cucchiai Guardate, guardate, guardate chi c'è, cioè per passare, chi era, non è chi era? Sì, non si capable, non si può fare aaku, eh? E non so guardate, cosa combina? Aaaaaah, giù! BOOM! E' ok! 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 I' ok! E' ok! E' ok! e e adesso ha il color bianconiglio adesso sto disegnando adesso ok ascoltiamo e uff oh un 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 ma siccome questa è una porta di servizio, non possiamo servire ma ecco il tavolo Tu dovevi abbavagliato? Ti senti bene? Oh! Oh! E... Ecco! Andiamo! ma mentre e ma no 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 sono chiusa a chiave chiusa a chiave figo rogo aspetta oh Dio mio ecco ecco guardate no 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 a me ascoltare guardate 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 cosa succede c'è una canzone guardate 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 vedete potete guardare come vediamo vediamo eccole questa è una maratonda è un giro tondo no 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 ah luce ecco 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 ok ecco 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 ecco